Con lo scorrimento delle graduatorie regionali del piano di sviluppo rurale della regione Campania in riferimento alla misura 8.5.1 per il sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali e alla misura 8.3.1 per il sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici sono stati assegnati 11 milioni di euro a 20 comuni del territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallodidiano e Alburni. Le risorse della misura 8.5.1 sono state assegnate ai comuni di Omignano, Montesano sulla Marcellana, Ascea, Casaletto Spartano, Roscigno, Auletta, Stella Cilento, Aquara, Sala Consilina, Sapri, Agropoli, Monteforte Cilento, Corleto, Monforte e Casella in Pittari. Le risorse della misura 8.3.1 sono andate ai comuni di Moio della Civitella, Santa Marina, Postiglione, Sicignano degli Alburni, Laurino e Stio. Dalla regione Campania arriva un grande segnale di attenzione per le aree interne del Parco Nazionale del Cilento, Vallodidiano e Alburni. Si tratta di risorse fondamentali per proseguire nell'azione di difesa del nostro territorio, ha detto Tommaso Pellegrino, attraverso un'efficace azione di prevenzione dei danni causati da incendi e calamità naturali e di tutela del patrimonio inestimabile di ecosistemi forestali che costituisce la nostra immensa ricchezza. Grazie a questi fondi, continua il presidente del Parco, si rafforza anche il sistema economico interno all'area Parco con un indotto importante in termini di occupazione legato alla realizzazione delle opere previste dalla progettualità. Ringrazio il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, e l'assessore all'agricoltura Nicola Caputo per aver confermato ancora una volta l'impegno a sostegno dell'intera comunità del Parco, conclude il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallodidiano e Alburni, nonché consigliere regionale, Tommaso Pellegrino.